Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale YouTube. Perché nostro? Perché non riguarda solamente me, ma riguarda noi due. Troverete delle sezioni dedicate alla mia professione in cui vi proporrò delle letture, dei showreel, degli spettacoli, dei cortometraggi, delle pubblicità e così via. Poi ci sarà una sezione dedicata a Catress Eye. Che cos'è Catress Eye? È un blog nato da poco e che riguarda il nostro punto di vista unito, il punto di vista di un felino, tremendo, e il punto di vista invece di un'attrice. Appena usciremo da questa quarantena inizieremo a fare i nostri viaggi già programmati in cui noi vi proporremo prima di tutto come si può viaggiare in modo semplice, comodo e divertente con un gatto. Poi troveremo anche dei collegamenti con il mio settore, spettacolo, cinema, arte, musica, teatro, eccetera, in ogni luogo che visiteremo. Quindi spero insomma che questo canale vi piaccia, aspetto un vostro parere, un vostro feedback e ci vediamo presto. Grazie ancora, benvenuti. Saluta? Come se fosse.